Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi qua siamo per andare a parlare, per andare a fare un recap del fine settimana, inizio e lunedì calcisti. Allora, vi direi di iniziare con la Serie A, che la potete vedere qua tranquillamente. Serie A, che c'è stata qualche sorpresa, a differenza della prima in cui non ci sono stati parecchi, che sì, è una sorpresa, ma comunque può capitare. E soprattutto il fatto che ogni B che abbia vinto. Partiamo con gli esiti, si è disputata Torino-Lazio, diciamo che non è stata un'altra incredibile, forse a Lazio deve fare la cosa di più comunque. Solito in difesa al Torino, come sempre, l'Udinese, Salire, Vintana, pareggio, non mi soffermerò tanto, mi soffermerò solo sulle partite un po' più di spessore. L'altra le dirò e basta, perché se no, calcolando che dobbiamo fare anche Bundesliga, Liganne, Premier League e Liga, anche se Bundesliga e Liganne parlerò solo delle due classiche. Non posso far durare il video cent'anni. Ovviamente, però, prima di proseguire, iscrivetevi al canale, mi piace, attivazione della campanellina, commentate, facendomi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, perché ci sono stati oltre 600 utenti che sono passati nel canale e non si sono iscritti. Se vi iscrivete tutti arriviamo a 700 e vi direi che non è malissimo. Quindi, vi ringrazio chi lo farà e ringrazio anche chi non lo farà, ovviamente, per l'attenzione prestata. L'Inter batte tra zero lo Spezia. La Lula, la coppia di attacco dell'Inter, è tornata. L'Upaco, ragazzi, che si vede molto motivato. Ieri non ha segnato, ha preso una traversa, poteva fare un po' meglio in quella circostanza. Comunque ha fatto un'ottima gara. Bene anche Lautaro, l'Inter, insomma. è sicuramente un'astra di partenza tra le favorite. Io un'astra di partenza avevo dato il Milan da favorito, da favorito. Vedendo questa prima giornata del Milan, qualcosina in più me lo potevo aspettare. La Juve l'ho messa a terza, quindi, insomma, sui mesi la otterranno le milanesi. Potrebbe vincere l'Inter, potrebbe vincere il Milan. Comunque, secondo me, assisteremo una seconda stella. Assisteremo. Sassuolo batte Lecce, 1-0. Il Napoli trionfa sul Monza, 4-0. Risultato tondo, partita positiva sono il Napoli. Kvara, omologhiamo perché non so pronunciare il nome. Sta facendo molto bene in due partite, tre gol, un assist. Continua, mostra personalità. è un giocatore di talento, delle volte fa delle sciocchezze, però, comunque, secondo me, alla fine si è rivelato un bel acquisto, anche se io non l'ho detto, cioè, nel senso che io non ho conto al suo acquisto. Per il momento mi sta zittendo, vedremo a fine stagione. Poi, Empoli-Fiorentina, 0-0. Bologna, vero, una termine in pari. Atalanta-Milan. Allora, Atalanta-Milan, beh, Milan io mi aspettavo potesse fare qualcosa in più. Questa Atalanta la vedo un pochino meglio della scorsa stagione, però, comunque, non mi aspetto che possano lottare per una Champions League, per una qualificazione in Champions. Magari, magari riescono a rubarne, a rubicchiare, praticamente, no. No, ovviamente non è rubare, però, diciamo, a scraffignare una qualificazione in conference, ho detto, in Europa League. Si vedrà, comunque, 1-1. Mi aspettavo più un 2, piuttosto che un pari giù. Roma Cramonese, 1-0, una Roma, diciamo, non è fantastica, ma molto pragmatica, più che molto pragmatica in termini di reti fatte, ma è molto pragmatica in termini di risultati ottenuti, perché con due gol fa sei punti. Quindi, queste sono, diciamo, le partite che mi piacciono a me più che altro, nel senso che io sono un tipo che bada ai titoli, non vedo, onestamente, molto, me ne frega poco del gioco, quelle robe qui. Quindi, la Roma, secondo me, può fare bene. Io l'ho data in Champions, l'ho data anche Vincente e l'Europa League, perché io non ho fatto il pronostico della... e la darò anche Vincente perché uscirà il pronostico. Juve-Sampdoria, 0-0. Juve-Malo, onestamente, Allegriano, mi sta piacendo. Diciamo che è stato sicuramente anche bravo lui, nei suoi cinque anni, Allegriani, ma c'è da dire anche che aveva una squadra nettamente più forte rispetto a tutte le altre in Serie A. In Europa qualcosa ha fatto, comunque due finali, ha perso da due squadroni. Secondo me sulla prima aveva più possibilità che sulla seconda. Però, male, secondo me, in questa seconda parte. Vediamo se la Juve riuscirà a vincere lo scudetto. Difficile ma possibile. E se... Vediamo se rimarrà bocca asciutta di Dioli, perché ci sta anche questo rischio. Poi, passiamo subito, anzi, passiamo alla Liga Spagnola. Liga Spagnola che ha visto trionfare il Madrid, il Barcellona. Ha visto soccombre all'Atletico. Ha visto anche... Ha visto anche il Valencia di Gattuso uscire sconfitto dal conto atletico Bilbao. Io Vallecano parte l'Espagnolo 0-2. Siviglia, Valladolid. E qua spendo qualche parola. Il Siviglia che... Male. È iniziato male, sconfitto a pareggio. Ma a me Lopeteghi non mi è mai piaciuto come allenatore molto. Per chiarità che Siviglia comunque ha vinto l'Europa League, che non è l'ultimo titolo. Soprattutto per una scuola che non è un Real. Se il Real vince l'Europa League, è stagione fallimentare. Perché significa che tu sei retrocesso dalla Champions, è grave. Oppure significa che tu non ha primamente se nemmeno qualificato. Altre prime 4. Onestamente per il Real deve essere una cosa scontata, come per il Barça. Siviglia che deve migliorare. E vediamo che se continua così, comunque non penso continuare così per tutta la stagione. Ma se continua a fare male, se continua un po' ad arrancare, diciamo che magari qualche squadra potrebbe insidiarsi nel quarto posto. Poi Osasuno abbatte Cadice 2-0. Il Betis batte il Mallorca 1-2. Vittoria importante per il Betis. Che potrebbe provare a insidiarsi per una corsa Champions, insperata in astra di partenza. Ma se il Siviglia è così, potrebbe infilarsi. Zelt a Vigo. Il Real Madrid batte 1-4. Zelt a Vigo. Qua spendo qualche parola. Già l'ho spesa in un video, anzi due. Però l'ho fatto anche il video delle pagelle. Bene il Madrid. Io la vedo onestamente la favorita netta per la Liga. Anche se il Barcellona quest'anno è una squadra molto più insidiosa che lo scorso anno. E poi la vedo anche tra le prime io tre. Poi qualcuno storcerà il naso. Ma sicuramente se non metà la prima di 5 ci sta. Favorita per la vittoria finale della Champions. Vedendo comunque questo Liverpool. Questo City che devo ancora ingranare. Ma che comunque può fare i botti. Sì, il PSG sta facendo molto bene. Ma il livello della Liga è particolarmente basso. Rispetto a quello della Champions League. Il Bayern. Manca l'attaccante. Insomma, il Madrid io lo inserisco. Tra i primi tre favoriti. Comunque ottima gara. Modric maestro. Benissimo Vinicius. Anche Benzema a buon livello. Anche se secondo me Calera quest'anno. Questo in real mi convince. Atletic Bilbao batte il Valencia 1-0. Il Valencia secondo me può fare buone cose. Ma non quanto si sta dicendo. Perché comunque Gattuso. Perché è un allenatore di buon livello. Ma non è di certo un allenatore al momento. Cioè, leggendario. Sì. Se mi dici Gattuso. È un buon allenatore. Sì. Ma non è il miracolo. Per dire. Io preferisco uno Spalletti. Ma ci sta. Perché ha allenato 3-4 anni. Tra... Reale. Sì. Reale. Tra Napoli e Villan. Poi. Atletico Madrid perde 0-2 dal Villareal. Male. Perché comunque stanno anche al Vanda Metropolitano. Il Villareal quest'anno. Che giocherà alla Conference League. L'anno scorso hanno utilizzato tutte le energie. Per la Champions. E questo è stato il settimo posto. Ma io onestamente il Villareal lo vedo più in Pant. E lo vedo in Europa League. L'anno prossimo. Se non in Champions. Calcolando che questo Siviglia sta faticando. Il Barcellona batte 1-4 alla Real Sociedad. Buona prova del Barcellona. Che comunque ha rischiato. La Real Sociedad è una squadra forte. Che lo scorso anno è arrivata a sesto o settimo. Se non va del rando. Buona gara. Bene. Lewandowski a compleanno. La tifoso del Madrid. Sono confidente per la stagione. Ma di certo. Questo Barcellona mi spaventa molto. Il piticolo dello scorso anno. Elcio Almeria termina in pari. 1-1. E Hieron abbatte il Getafe. 3-1. Passiamo adesso alla Bundesliga. Bundesliga che ovviamente sarà più breve. Perché ci sono poche squadre. Deve parlare. Pugustia Mönchengladbach. Batte una 0-0 a Berlino. Comunque Mönchengladbach. Che negli ultimi anni arriva sempre nelle mie posizioni. L'Ausburgo perde dal MENS. 1-2. Il Wolfsburg. E lo Schalke 0-4 prege. Lo Schalke che era processo l'anno scorso. Anzi due anni fa in Serie B. Comunque nella seconda divisione tedesca. Che adesso vuole riprendersi. Però comunque. Il Wolfsburg è una bella squadra. Pareggiarci non è male. Lo Stoccarda perde dal Friburgo. 0-1. Comunque il Friburgo ha fatto bene scorsa annata. Il Borussia Dortmund perde in 7 minuti. Si fa rimontare da 2-0 a 2-3. Male negli ultimi 6 minuti il Dortmund. Ma a me non mi convince tantissimo come squadra. L'anno scorso pensavo potessi insidiare il Bayern. Comunque un pochino per il primo posto con Haaland. Adesso non c'è nemmeno più Haaland. Non penso che era il Cristiano Ronaldo. Però comunque non penso nemmeno che cambi così tanto una squadra ormai. Vista anche l'età. E quindi mi sorprende il fatto che si siano fatti fare 3 gol in 7 minuti. Questo sì. Poi il Leverkusen perde malissimo dall'off in M03. Qualcosa da rivedere da questa gara. Ci sta assolutamente. L'Union Berlino batte 2-1 l'Ipsia. L'Ipsia male. Pure qua. Eintracht e Colonia. Termina il pareggio. Il Bayern distrugge il Bocum. Un squadra che aveva battuto i campioni tedeschi. La scorsa è nata a 4-2 se non erro. E quest'anno però ne prendono 7. Il Bayern che a me convince. È una squadra che può vincere la Champions. Mané sta facendo faville. Forse dico direttua faville. Guardate. Mané comunque non sarà il più forte giocatore al mondo. Ma si è vista la differenza. Si è visto quello che comunque ha portato il Bayern. C'è cose positive. Anche se magari non segna i gol di Lewandowski. Si è visto cosa ha tolto al Liverpool. Anche nella gara ieri. Contro il Manchester United. Adesso passiamo alla Ligue 1. Ligue 1 che vede il PSG per trionfare. Ma non parleremo solo di quello. Ovviamente partiamo dalle prime partite della Ligue 1. Il Lyone batte il Troye 4-1. Buona gara del Lyone. Poco da dire. Bella gara comunque. Il Lyone è uno dei più forti francesi sicuramente. Il Monaco sono messo sorprendentemente. Comunque lo scorso anno erano arrivati secondi. Perdi da Lenz 1-4. L'Olympique Marsiglia batte 2-1 il Nantes. Che la scorsa andata se non sbaglio addirittura ha fatto parte sinistra della classifica. Il Racing Strasburgo e le Reims pareggiano 1-1. Il Clermont vince contro Nizza. Mi sarebbe aspettato il posto. Il Tolosa e l'Orient pareggiano 2 pari. L'Angers e il Brest si danno in battaglia e ne esce vincetore. Il Brest per 1-3. Il Montpleyé e l'Auxerre si spidano 1-2 in favore dell'Auxerre. René e Ayaichon. Ragazzi scusate ma non conosco queste squadre. Infatti andiamo veloci. Il René e il Ren batte 2-1 l'Ayaichon. E il Lilla perde 1-7 dal Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain è che è un rullo compressore in Ligano. Ma voglio dire che con lo sforone che si ritrovano non ci si può aspettare altro. Leo Messi che è stato non in forma. Bappé come sempre esplosivo. Neymar che ha avuto l'inizio di stagione clamoroso. 4 gare, 7 reti e 6 assist. Qualcosa di incredibile. 3 contribuzioni al gol di media. Anche poco più. Una cosa pazzesca. La MNM sembra che stia funzionando. Galtier mi piace come allenatore. Mi piace anche il fatto che il PSG. Stanno facendo anche delle buone mosse. Perché comunque stanno cercando di far attuare un bel comportamento ai giocatori del Paris. Secondo me Galtier sta facendo un buon lavoro. Quest'anno possono vincere la Champions come ogni anno. Vediamo se ce la faranno. Sarà curioso da vedere. Passiamo all'ultima non per importanza. Forse per importanza attualmente è la più importante. La Premier League. Allora Premier League in cui ci sono stati esiti clamorosi. Il Tottenham batte 1-0 il Wolverhampton. Tottenham che è un po' fatica ma comunque riesce a battere Wolverhampton. Wolverhampton squadra che è difensivamente molto solida. Molto bene il Tottenham. Mi l'ho dato a vincitrice della Premier. Vediamo se avrò ragione. Comunque me la sono rischiata. Enrique Insegna il suo 250esimo gol. Con questa squadra l'ho dato anche il capocannoniere. Vediamo cosa succede. Buona la seconda. Anzi la terza per l'Everton. Everton-Nottingham Forest. Finisce 1-1. Everton-Nottingham Forest che secondo me riuscirà ad ottenere una salvezza. Dopo la scorsa vittoria contro West Ham non riescono a riconfermare l'esito. Ma comunque l'Everton è una squadra di blasone sicuramente. Ma comunque è una squadra sicuramente ostica. Per lo meno anche se lo scorso è andato malissimo. Leicester City. Southampton finisce 1-2. Il Southampton batte Leicester che è male. Male il Leicester. Leicester che è un po' calato lo scorso anno. Anche se comunque sono arrivati ottavi. Poi il Fulham batte 3-2 al Brentford. Non mi sarei aspettato questo risultato. Comunque il Fulham sono mette alle neopromosse. È quella che ha più possibilità di salvarsi. Il Crystal Palace batte la Stonbilla 3-1. Buona guerra del Crystal Palace sicuramente. Che secondo me può addentrarsi a una strada per una salvezza tranquilla. Il Bor... Ragazzi non lo so pronunciare. Il Borchut contro l'Arsenal. Che è 2-1 per la pronuncia. 0-3 finisce per l'Arsenal. Arsenal che in queste prime tre partite sta facendo un po' da schiaccia sassi. Bene Gabbard Jesus. Non mi aspettavo un impatto di così... Di questa importanza. E buona sicuramente la prova dei Gunners. Poi il West Ham male. West Ham due sconfitte di fila se non tre. 0-2. Il Brighton battle. West Ham è una squadra forte. Brighton è una squadra forte. L'allenatore mi piace e ha dimostrato contro il United che comunque non è l'ultima squadra che passa. Sicuramente è una squadra di medio livello attualmente anche se hanno battuto il Liverpool. Poi Chelsea-Litz. Chelsea-Litz. Distrugge il Chelsea tra zero. Malissimo il Chelsea. Si fa a spellare anche con i Bali veramente male. Mendy fa una catastrofe con i piedi. Vale. Mi sarei spettato sicuramente di più dai Blues vice campioni. Campioni di due edizioni fa della Champions. Il Newcastle blocca clamorosamente il Manchester City che secondo me deve ancora trovare la quadra con l'Olanda. Vediamo se i City senza riuscire a riconfermarsi sulla vetta del Premier League. Sicuramente non sarà semplice. Il Newcastle sta di fatto che è una squadra assolutamente ostica e da non sottovalutare. Poi il Manchester United clamorosamente batte questo Liverpool. Liverpool secondo me è molto male. Pochissima qualità in centro campo. Bene il Manchester che senza Cristiano Ronaldo o comunque ha giocato gli ultimi dieci minuti secondo me non doveva entrare. Benissimo Varane e McGuire deve stare in panchina tutta la stagione perché ci sono due davanti che sono più forti di lui. Non ho niente contro Harry ma oggi Varane e Lisandro Martinez sono dimostrati di essere più forti. Vediamo cosa riuscirà a portare. Casemiro ho detto anche da me Casemuro. Sono potuto per portare buone cose. Bene anche l'attacco. Mi è piaciuto Rashford. Mi è piaciuto Martial. Questa vittoria potrebbe dare fiducia ai Red Devils che però devono avere sempre questa attitudine perché non hanno vinto tanto per la squadrona ma hanno vinto per l'attitudine. Questo dimostra che anche solo avendo un'attitudine corretta si può vincere. Vi ringrazio. Concludiamo qua questo mio recap sulle partite di questo fine settimana. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo un momento di lasciare un mi piace, di condividere il video. Ovviamente attivare la campanellina se non avremo le notifiche. Per chi non pubblico orari precisi giorno dopo giorno. Un video al giorno esce sempre. delle volte anche più di uno. Lasciate like, commentate nella sezione commenti e fatemi sapere cosa ne pensate su tutte le partite. Lasciate like, iscrizione, campanellina. Da me è tutto. Vi ringrazio la visione. Ciao.